Quando ci sono queste due squadre in campo, lo spettacolo è praticamente sottinteso. Di fronte le due squadre con le migliori reti realizzate, gol spettacoli, provenienti dal destro di Romani, dal sinistro di Giannone. Matarese è assente, Petrone è altro gioiello. Di là invece i gioiellieri sono Cimmino del vecchio Acciaro, che più ne ha più ne metta. Le formazioni per i Ciaccarella, quota 15 punti, secondo posto ma meno 9 i punti in classifica rispetto alla prima, che è il Cardiff. La parità di partite giocate, 8, il Cardiff comanda, punteggio pieno. Ciaccarella ha perso lo scontro diretto, proprio l'ultima partita. Di meo tra i palli, da Don Esposito a sostituire Gianni Ruggero, Nasti Acciaro, Cimmino del vecchio De Luca, non c'è Giorgio Abrisco. Per lo Young Boys, che invece è penultimo in classifica dopo 7 partite, 9 punti. Occhio qua, Romani, la parata di Di Meo. Tra i palli c'è Perna. Marfè, Schiattarella in prestito ai Galacticos. Petrone a sinistra, Romani a centrocampo con Massari. In attacco Giannone, occhio al suo sinistro. Marfè, prova a chiudere, arriva Ciaro, ancora Marfè, doppio. Parte Massari, in contropiede, c'è Giannone, 3 contro 2. Va ancora Massari, va giù, poi Schiattarella fuori. Con le mani va Ciaro. Vediamo un po', palla dentro del vecchio, prova a girarsi. Mezza 3, nasconde palla. Poi col sinistro, rimane lì. Non vedo nulla, palla che esce, sarà calcio d'angolo. De Luca, Sergi Roberto. A Ciaro sul secondo. Palla che esce. No, Petrone. Il sinistro, palla in rete. Cimmino, 1-0. Ciaccarella, fulminato Perna. Petrone. Dunque, 1-0 Ciaccarella che prova, fino alla fine, a resistere alla matematica certezza di un secondo posto. Che tecnicamente, non gli basta assolutamente. Come valori tecnici, inferiore a nessuno, Ciaccarella. Occhio qua, Petrone dai numeri. Palla che esce, 1-0 Cimmino. Gol meraviglioso, sinistro. Improvviso. Non so se l'ho ripreso benissimo, vedremo. Massari. Coppo di tacco, Iannone. Prova a dare spettacolo. Ancora Iannone. Petrone. Occhio al destro. Lo calcia ora! Di meo, salvatutto, meraviglioso. Palla dentro, coppo di tacco. Massari, non arriva, Cimmino. Brecco per il Ciaccarella con un 3 contro 4. Si butta dentro del vecchio. Palla per lui, Perna. Contropede ancora, Schiattarella si gioca a ritmi altissimi. In questi primi minuti, Romani sfonda. Ancora Romani, ha un grandestro. Finta ancora. Romani. Palla dentro, Di meo! Ha salvato tutto. È tornato nel Ciaccarella. La squadra che lo ha lanciato. Davide Di meo. Per poi passare al Borussia Dortmund di Savino. Poi ultimamente era del vecchio, il portiere del Ciaccarella, con Prisca in attacco. Oggi, invece, Di meo in porta. Anche perché il Borussia non ha giocato contro il Cardiff. Ieri, partita rinviata. Cimino. Prova a sgusciare via. Dadone, impegnato anche dopo col PSG! Qui allunga in angolo. Jenny Perna. Calcio d'angolo, Ciaccarella. Palla dentro, salta. Anzi, gira di sinistro, Nasti. Non trova però la porta. Palla lunghissima. Petrone. A 15 fa... Petrone. Carica il destro, lo prova. Palla che scende! Iannone. Del vecchio. Ancora del vecchio, poi Marfè. Romani. Finta di Edo Romani. Doppia. Inizia a giochi chiari Romani, poi perde la sfera sulla carica di De Luca. Palla lunga Cimmino, mette giù occhio al mancino. Lo prova ora! Forse Perna. Forse Perna, no, fondo. Romani, poi chiude Nasti. Perisca sul dribbling, ma recupera il fondo. Giannone. Giannone. Prova a partire. Quattro contro tre. Giannone preferisce il sinistro in porta. Murato. Protesta Romani. Petrone con le mani. Palla per Schiattarella. Dentro, errata. Tira! Del vecchio, fuori. C'è un fallo su di lui. Del vecchio. Prova, fuori. Nasti, fuori. Punizione per lo Young Boys, occhialo specialista Giannone. No, Petrone, mi stai davanti. Non vedo nulla. È un tocco, è uno schema Romani. Doppia deviazione. Palla che esce. Petrone. Palla lunghissima. Non taglia nessuno. 1-0 il risultato Ciaccarello. Del vecchio. Prova il tacco. Chiude Petrone. De Luca. Dal nulla, iaiai. Bruttissimo l'intervento di Marfè. Ancora Cimmino. Poi allarga di là verso Nasti. Del vecchio si sta alzando. Brutto il calcione, ma sul pallone dice l'arbitro. Palla per De Luca. Si gira. Punta l'uomo Sergi Roberto. Prova ad andare. Contrasto durissimo di Marfè. Sta facendo più morti che feriti. Petrone. Va via. Petrone. Occhio. Punta l'uomo. Che è da done. Palla Giannone. Attenzione. Prova al palleggio. Ancora Giannone. Spazza Nasti. Cimmino sul pallone. A Ciaro. C'è De Luca. Palla deviata. Colpo di testa a Perna. Vola. Genni Perna. Una delle migliori parate. Il portiere dello Young Boys. Qui in controtempo. Ma meravigliosa. La sua respira. Va Cimmino. Palla dentro. Arriva Ciaro. Ma non prende niente. Solo Romani. De Luca. Arriva Massari che recupera. Poi a Ciaro. Parte un destro. Da una distanza enorme. Ma la palla fuori. Petrone. Lancio lungo. Occhia al taglio di Romani. De Luca. Anzi Cimmino. Va via. Ancora Petrone. Alza la sfera per Giannone. Colpo di coda. Romani fitta. Romani. Sinistro. E gol di Edo Romani. Che torna allo sbocatore League con un gol. 1-1. Fischia l'arbitro. 1-1. Il risultato del vecchio. Col destro. Gianni Perna. Come direbbero i capoverdiani. Gianni Perna. Rimessa laterale. Battuta palla dentro. Sbuca Marfè. Dadone. Si coordina. Poi però sviene solo per un attimo. Ora Dadone è meraviglioso il passaggio verso Acciano. La tiene in campo. Massari riparte. E se ne va. La palla esce. La rimessa è sua. Petrone. Dentro centrale. Del vecchio palleggia. Cimmino sbuca dal nulla. Colpo di testa. Gianni Perna. Schiattarella ripiegare. Petrone. Avanza. Occhio alla sterzata con destro incluso. Cambia tutto ma prende Massari. Petrone ancora. Finta. Iannone. Tacco che azione. Ancora Petrone. Che punta Dadone. Viene chiuso da Acciaro. La palla non esce. Palla lunghissima. Marfè col sinistro. Ancora Nasti. Ora si corre nuovamente. Tantissimo. Con Nasti che cambia per Acciaro. Schiattarella. Recupera Schiattarella. Parte un contropiede. Quattro contro tre. Tocco. Uno due. E poi Di Meo. Di Meo non perfetto. Poi recupera. Acciaro. Prova dentro. Bellissimo il pallone per del vecchio. Che azione. Ciaccarella. Ma De Luca. Non trova la sfera. Forse qua poi c'era un fallo. Ancora già battuto. Attenzione De Luca. Petrone. Sbuca. Scimmino. Fallo di Petrone. Scimmino. E poi Gianni Perna. Riesce a deviare il pallone. Grande partita per ora. Per Gianni Perna. Sicuramente in formissima nell'ultimo mese. Di torneo. Va Nasti con le mani. Cercato De Luca. Poi i Romani. Occhio che se parte. Eh qui però si allunga troppo la palla. Acciaro. Prova il dribbling. Acciaro resiste. Chiude Massari. Ancora Massari. Corre ovunque. Sportellata meravigliosa di Massari. Che parte. Poi però. Non trova la palla. Arriva Petrone. Salta il primo. Petrone. Occhio al destro. Lo prova fuori. Si rifugia in laterale Marfè. Rimessa per il Ciaccarella. Che conduce. Anzi no. Il risultato è 1 a 1. Nasti. Dentro. Poi da Done. Nasti palleggio. Per Del Vecchio. Prova a girarsi. La palla esce. Del Vecchio. Ancora Marfè. Spazza via. Pressione alta del Ciaccarella. Che vuole tornare in vantaggio. Di Meo. Cerca il lancio lungo. Palla che passa. No. Da Petrone. Ancora Acciaro. Tocco morbido. Ma Petrone ancora. Arriva. Poi a spazio. Può allargare tutto verso Romani. Che carica il destro. L'ho finta. Romani. Va giù. Attenzione. Romani prende il largo numero. Palla dentro. Fuori. Laterale. Occhio qua. Perché col destro. De Luca. 2 a 1. Sergi Roberto. È tornato. Petrone. Parte Cimmino. Allarga verso De Luca. Che poi prova a saltare il suo avversario. Che esce. Acciaro. Dentro De Luca. Poi Petrone scavalcato. Ancora Petrone. Rimessa battuta. Occhio. Del Vecchio. Fuori di nulla. Giocata straordinaria di Del Vecchio. Sono arrivati tutti i tifosi dello Young Boys. Intanto colpo di tacco. Destro perna. Salva Petrone. Eccoli là. Tutta la curva dello Young Boys. Frascarino. Esposito. C'è anche Lauro. Tutti ex giocatori dello Young Boys. Parte il destro. Petrone. Anzi perla. Poi Petrone. Eccolo qua. Punta l'uomo. Lo salta. Petrone. Cerca una gran palla. Dadone però è ben piazzato. Massari. Poi Petrone. Intervento di De Luca. Spazza Petrone. Va del Vecchio. Ammonito Romani. Intanto per il fallo precedente. De Luca perna. Prova a ripartire Petrone. Nasti. Verticalizza. De Luca. Petrone ancora. Giannone. Col destro di Meo. Giocata supersonica di Giannone. Ma la risposta di Di Meo è stratosferica. Perché i nervi ora sono un po' tesi. 2 a 1 Ciaccarella. Giannone. Palla dentro. Morbida. Salta Massari. Palla che esce. Il primo tempo si conclude. 2 a 1 Ciaccarella. Inizia il secondo tempo della partita. Giannone. Ciaccarella. Il risultato è 2 a 1 Ciaccarella. Qui Nasti si beve. Schiattarella due volte. Nasti meraviglioso. Il gol di Nasti. Non era uscita la palla. Per me non era uscita ovunque. Ma il gol è stato annullato. Che giocata di Nasti. Sarebbe entrato nei top reti. Ma l'arbitro non è stato dello stesso avviso. Trattenuto. C'è fallo. Si continua. Del vecchio. Perde la sfera. Petrone poi. Finta. Del vecchio. Del vecchio. Per Nasti. Prova l'azione. Del vecchio. 3 a 1 Ciaccarella. Ancora Nasti devastante. Battuta attraversa la... Stava smontando la portaiannone. Sulla battuta del vecchio. Dolce pallonetto. 4 a 1 Ciaccarella. Romani. Alla battuta fuori. No non gioco l'Alessandro. Ancora Romani che va Romani. Perde l'attimo. Neanche il pallone. Crematerra, Cesare, Giallini e Percelano. Del vecchio ancora. Altro gol per Del vecchio. 5 a 1. Avalanga il Ciaccarella. Parte Cimmino. Alza la testa. Illumina Del vecchio. Che poi... Ci regala... Un altro dolce pallonetto. 6 a 1. Romani fuori. Palla dentro. Colpo di testa. Di De Luca a mettere fuori palla per Romani con le mani. Giannone. Anzi Petrone. Che ha il vizio sempre di scartare anche me. Occhio Giannone. Prova a saltare i due avversari. Si scartano tra di loro. Giannone viene fuori. Giannone a giro. Di meo. Pazzito Giannone. Palla per lui. Mette giù. Alza la testa. Doppio passo. Ancora. Palla per Massari. Che resiste. Poi Romani. Non trova il pallone. Allora. Asciaro. Cimmino. Schiattarella. Velo. Del vecchio. Aspè. Numero di Del vecchio. Va via. Punizione. Va col destro. Nasti. 7 a 1. 7 a 1. Una punizione tremenda. Attenzione. Per lo Young Boys. Che ha giocato un buon primo tempo. Poi è crollato in questa ripresa. Petrone stava facendo il gol del secolo. Palla fuori. Calcio d'angolo. Anzi no. La palla era uscita senza la deviazione del portiere. Dunque dicevamo. Risultato molto largo. Se consideriamo il primo tempo giocato dagli Young Boys. Dove ha chiuso molti spazi. Pazzito Iannone due volte. Comunque. Il Ciaccarella potrebbe lanciarsi. A 18 punti a meno 6 dalla capolista. Cardiff. Con una partita in meno. Palla lunga di Acciaro. Salta. Poi Cimmino. Mette giù. Va col sinistro. Ancora Iannone. Prova a girarsi. Va col sinistro Di Meo. Lancia lunghissimo. Spizza del vecchio. Il gol di del vecchio. 8 a 1. Ciaccarella. Del vecchio. Palla per Nasti. Cambio di là. Sbagliato. Cimmino. Palla dentro. Ancora del vecchio. Recupera Marfè. Prova a ripartire. Massari. Perde un altro pallone. Acciaro. Va col destro. Da lì. Palo incredibile di Acciaro. Petrone. Va col destro. Palla fuori. Palla di Schiattarella Romani. Vediamo Romani se inventa qualcosa. Ancora Romani. Palla che esce. Calcio ad angolo. Palla sul secondo. Iannone con la spalla. Meravigliosa. L'aggancio. Carica al sinistro. Iannone. Doppio passo. Parte il tiro. Di Meo. È volato come una molla. Di Meo. Tra i migliori portieri dello sbordone League. C'è sicuramente Di Meo. Un po' di testa di Nasti. Ormai è cresciuto tantissimo Di Meo in quella porta. Cimmino. Ancora col destro fuori. Romani Di Meo. E ancora Di Meo. Cosa ha preso? Mamma mia Di Meo. Super Saiyan. Questa la inseriscono nella top one. Le parate. Non lo so. Me la invento. Che ha fatto delle parate pazzesche. È tornato a casa sua Davide Di Meo. Nel ciaccarella. Che l'ha visto crescere. Ora sta dando veramente spettacolo. Con le sue prodezze. Del vecchio. Prova a cambiare. Marfè. Esce bene. Allarga tutto verso Iannone. Che controlla. Alza la testa. Vediamo un po'. Doppio numero. Poi chiude Nasti. Petrone. Prova a recuperare Nasti. Calcio di Petrone. Allora Iannone. È una sfida. È una sfida contro il portiere del Ciaccarella. Qui da Adone però si frappone. Mani dentro. Ancora Marfè. Salta Nasti. Defende la sfera. Risultato pesante. Partita ormai chiusa. Ma Iannone vuole regalarsi. La gerata è un gol. Marfè Di Meo. Le prende tutte. Petrone. Col destro. Nasti. Palla dentro. Salta Romani. Iannone al volo. E stavolta non si coordina bene. Comunque la palla è ancora buona. Romani mette giù. Finta. Massari vuole il pallone. Romani. Finta. Tripla. Fallo. Va Romani. Fuori. Marfè. Palla che esce rimessa laterale. Dieci alla fine più o meno. Un po' di testa di Schiattarella. Massari. Prova a girarsi. Col destro. Massari traversa. Iannone Di Meo. Triplo Di Meo. Peccato che è un po' sfocata la visuale. Cosa ha preso Di Meo. Pazzesco. Cosa ha preso Di Meo. Acciaro al volo. Del vecchio. In aria. Finta. Sinistro. Poi ancora Acciaro. Mancino morbido. Marfè salva. Poi è chiuso. Petrone. Nasti. Triangolo meraviglioso. Colpo di tacco. È tornato il Schiaccarella. Lo spettacolo all'Avion. Firmato dai ragazzini. In casacca blanca. Anche se ora la casacca è gialla. Patte Romani. Avanza Romani. Solo un gol preso da Di Meo. Nonostante i numerosi tiri. Dallo Young Boys. Prodezze meravigliose. Marco mi stai marcando da uomo eh. Palla per Petrone. Che prova a fare il giro. Palla Petrone. Non la dà. Poi viene chiuso. Calcio ad angolo. Marfè. Dentro. Giannone. Col tacco. Altra giocata meravigliosa. Poi però si allunga la palla. Dadone. Parte lui. Avanza Dadone. È un gran destro. Lo prova a Perna. Bello il pallone per Romani di Perna. Avanza Romani. Palla in calcio ad angolo. Palla dentro Dadone. Del vecchio colpo di tacco. Cimmino però non arriva. Giannone. Carica al sinistro. Eccolo. Anzi cambia tutto. Romani al volo. Dimeo la tiene. Poi Cimmino Palorete. Ancora Ciaccarella. 9 a 1. 9 a 1. È un risultato pazzesco. Pesantissimo. Per la rincorsa all'Europa che conta. Dello Young Boys. Ma soprattutto. Aumentano i rimpianti per un Ciaccarella che poteva assolutamente. Tenere testa a quel Cardiff. Occhio. A Petrone. E invece dista ora 6 punti. Con una partita già giocata rispetto al Cardiff. Pazzesco. Questo Ciaccarella. Che probabilmente. Anche se nel calcio tutto è possibile. Riuscirà a trionfare. In Lega Premier League. Ma comunque questo gioco potrà fruttare molto in Europa. Una magia di Del Vecchio dalla bandierina. Straordinario. Serie di perle. Di Del Vecchio. Due pallonetti. Uno da calcio ad angolo. Pazzesco. Ancora. Nasti. Dentro. Quasi autorete. Ora però si sta sconnettendo. 10 a 1 il parziale. Allora dentro di Nasti. Da donna il volo. Svirgola. Romani. Cerca Massari. Che va col destro. Di Meo. Le ha prese. Tutte. Del Vecchio. Dentro. Cimmino. Tutto solo. Danza del Ventre. Per perna tra i pali. 11 a 1. Li vedete calmati. Iannone. Fuori. Ecco davanti alla parte. Vabbè. Questo è l'asta. Questo è di qua. Romani. Cerca Spazio. Iannone tutto solo. Perde l'attimo. E anche il momento del tiro. Contro piede. Del Vecchio. Ai ai ai. Migliorato un sacco. Datone. Fuori di nulla. Partito ormai quasi alla fine. Risultato imbarazzante. 10 a 1. Ciaccarella. A valanga sullo Young Boys. Romani. Termina così. 6 punti. Tra Cardiff e Ciaccarella. La rincorsa continua. Anche se disperata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.